Ufficiali, sottoufficiali, graduati, truppa, dipendenti civili, in nome del Capo dello Stato, voi riconoscerete il colonnello pilota Nicola Lucivero come comandante del nono stormo. Con il pronunciamento della rituale formula di riconoscimento, il colonnello Nicola Lucivero è il nuovo comandante del nono stormo dell'aeronautica militare di Grazzanise. Dopo due anni di comando, il colonnello Pasquale Di Palma cede il testimone al nuovo comandante in rientro da Bruxelles, dove ha ricoperto un incarico in ambito nato. La cerimonia è stata presieduta dal generale di divisione aerea Gian Paolo Miniscalco, già comandante del nono stormo ed attualmente comandante delle forze di supporto speciali dell'aeronautica militare. L'assunzione del comando da parte del colonnello Lucivero, simbolicamente suggellato con la consegna della pluridecorata bandiera di guerra del nono stormo da parte del comandante uscente, è avvenuto alla presenza delle più alte autorità civili e religiose cittadine. Particolarmente toccanti le parole del colonnello Di Palma, che nel ricordare i tragici eventi di Ricopiano, Ischia e l'emergenza incendi in cui lo stormo ha operato senza risparmio di energie, ha voluto rimarcare la benegazione con cui gli uomini e le donne del Cavalino Rampante operano quotidianamente a servizio della collettività. Durante questi due anni ci sono state diverse calamità, diversi interventi e in tutte abbiamo dimostrato ancora una volta di essere pronti e di poter rispondere con prontezza e aiutare le popolazioni. È sicuramente una di quelle cose che riempie il cuore, sicuramente ha bisogno di addestramento e il nono stormo ha queste capacità e le ha dimostrate per gli ultimi due anni e sicuramente sarà sempre pronto. Motivazione ed entusiasmo invece nelle parole del neocomandante Lucivero, che ha immediatamente sottolineato l'ottimo impatto col suo nuovo reparto. Ho trovato un gruppo di professionisti veramente preparati ed affiatati come del resto tutto il resto dei professionisti della grande squadra di Azzurra e non vedo l'ora veramente di iniziare a lavorare con loro perché mi hanno dimostrato in questi pochi giorni già grandissime capacità e grandissime attitudini. L'annuncio infine da parte del generale Miniscalco dell'imminente arrivo allo stormo dei moderni elicotteri HH-101 proietta la base aerea casertana in una dimensione futura di sempre maggiori livo nell'ambito del comparto difesa. Nello stormo è già stato definito certamente il passaggio alla nuova macchina, l'elicottero 101, che nella sua categoria è l'elicottero più avanzato del mondo e quindi sarà un passo epocale per questo reparto. Grazzanese è una base fondamentale perché è una delle poche basi che con le ristrettezze economiche con cui facevo accenno, che sono diventate strutturali, rimane aperte a 24 ore al giorno, quindi con grande sforzo per il nostro personale. Il nono stormo, con i suoi assetti di volo HH-212, svolge operazioni di supporto alle operazioni speciali nonché di ricerca e soccorso di personale sia in Italia che nell'ambito delle missioni internazionali.